Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati ancora una volta qui sul canale di Zorro.it Come al solito sono Giovanni e oggi come promesso torniamo a parlare di Team FWA In un precedente episodio abbiamo analizzato in linea generale la promozione Mentre oggi vediamo un attimino insieme qualche test Ma soprattutto cercheremo anche di rispondere a un po' dei vostri dubbi E cercheremo in linea generale di analizzare la mia esperienza a lungo termine Quindi mi raccomando, sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video Vi ringraziamo per il supporto e anche per le domande che mi avete fatto anche un attimino sui miei social Quindi mi raccomando, trovate tutto in descrizione per qualsiasi cosa Siamo sempre con lei a vostra completa disposizione come anche il nostro sito, tutto in basso Detto questo però, iniziamo subito Sono andato proprio a manetta, quasi Eminem, ma va bene così Andiamo e dico andiamo perché io qui ho una bella scaletta Ho preso un po' di appunti, in realtà un bel po' di appunti Proprio per realizzare insieme al meglio questa promozione e l'effettiva efficacia di questa linea Ovviamente vi ricordo che dipende anche un po' dalla situazione o comunque dal luogo E quindi dovete vedere un po' anche la copertura Però vi parlo un attimino della mia esperienza e di come effettivamente è andata questa promozione Questa linea e quindi Team FWA Voi trovate anche il link per attivarla, maggiore informazione sempre in basso Comunque la prima cosa che voglio analizzare insieme a voi è la velocità Perché io durante questo mese o comunque per 30 giorni ho effettuato diversi speed test E in linea general ho realizzato poi una media E questa media è di 20 MB in upload e 5, anzi no scusatemi, 4 in upload Mentre per quanto riguarda i minimi storici, se così possiamo dire, abbiamo un 4 MB in download Adesso lo analizziamo e 3 in up Mentre come massimi abbiamo un 30 MB in download, il che è molto molto interessante E 5 in up Allora da tutti i test quello che ne esce poi fuori è che il problema principale di questa tipologia di servizio Almeno per quanto riguarda la mia zona, per quanto riguarda appunto la mia situazione È l'upload che non è dei migliori È un attimino lentuccio E per me che carico tanti video, per persone come me che caricano tanti video magari su YouTube Non è proprio la cosa perfetta, comunque non è proprio una delle scelte migliori Però comunque meglio della mia situazione precedente, vi ricordo che andavo veramente lentissimo Sia in download che in upload, veramente una connessione pessima Ma per problemi proprio di connessione a DSL qui non c'è nulla E vi ripeto che sono abbastanza in periferia, quindi è un problema proprio generale della mia zona Quindi ok, e quindi ok c'è il problema dell'upload ma comunque già meglio di altri servizi che ho provato Mentre per quanto riguarda l'upload, voglio dire il download, non ci sono problemi Anzi sono veramente soddisfatto Il massimo di questa linea dovrebbe essere 40, arrivo a 30, a volte anche 35 Ma è capitato una volta quindi non ve lo segno assolutamente, vi metto come 30 come massimo Ma secondo me ci potrebbe stare sotto questo punto di vista Mentre per quanto riguarda il minimo storico che abbiamo visto prima E quindi 4 MB di download e 3 in app È da diciamo andare a, non lo so, ad inserire in una situazione un attimino particolare Lì al generale secondo me il problema era proprio il mode Infatti una volta riavviato il tutto è andato bello che tranquillo Comunque è tornato a navigare nella sua media quindi sui 20 Poi subito dopo quindi tolta questa cosa della velocità Che comunque vi dico non ci sono problemi Secondo me ovviamente effettuate sempre una copertura Prima di procedere con una promozione del genere, un test del genere Andiamo avanti, andiamo comunque ad analizzare la stabilità E vi dico che sotto questo punto di vista non ho avuto assolutamente problemi Allora, premetto che come detto in precedenza ho riavviato una volta Il modem perché la connessione non andava diciamo benissimo E quindi diciamo quello che è successo prima con 4 in down e 3 in up Mentre l'ho riavviato anche un'altra volta Proprio perché si era un attimino diciamo fermata proprio la connessione Cioè non andava proprio Quindi ho riavviato il tutto ed è andato tutto come prima Quindi in linea generale in 30 giorni è stato riavviato due volte È stato riavviato due volte il modem Il che potrebbe essere un problema Anzi in realtà c'è Magari sarebbe molto più piacevole non fare una cosa del genere Però al suo tempo diciamo è una promozione che va meglio di quella che avevo Sì Mi ha dato altri problemi oltre a questo No È diciamo affidabile la velocità È giusta Sì Quindi diciamo i pro sono più dei contro in un certo senso Riavviarla due volte ci potrebbe anche stare Quindi sotto questo punto di vista vi dico che è affidabile Anche se ogni tanto va riavviato Nel mio caso due volte in un mese Però vabbè non lo so Vedremo anche a lungo andare come andrà Magari vi aggiorneremo su Instagram Se volete altri approfondimenti seguiteci anche da quella parte Un'altra cosa che mi avete domandato poi nei video ma anche su Instagram Cambia la velocità in base agli orari Beh vi dico che in parte sì O comunque di mattina è leggermente ma veramente leggermente più lenta rispetto alla sera Alla sera diciamo che spinge al massimo il tutto E questa è una cosa che magari per alcuni potrebbe essere problematica E questo problema in linea generale lo potete sottolineare soprattutto lato ping In questo caso infatti voglio rispondere anche a un'altra domanda O meglio è possibile giocare con questa connessione online? Allora Giocare e streamare addirittura Uno di voi ci ha dato un attimino un feedback scrivendo proprio che era quasi impossibile Andare in live e streamare con questa connessione Ed effettivamente è vero E vi dico che effettivamente sotto questo punto di vista non è proprio la scelta migliore in assoluto Anzi come state vedendo anche da qualche test Lato ping non è che siamo messi benissimo Soprattutto però di mattina Infatti questo test che state vedendo è di mattina In cui ho avuto un bel po' di problemi Stavo giocando a League of Legends E effettivamente diciamo la connessione non andava proprio benissimo Ero a 120 di ping Una cosa del genere Che non è proprio perfetto Soprattutto per chi gioca in maniera abbastanza diciamo Pro Se così possiamo dire Non è diciamo la linea migliore Per quanto mi riguarda ci potrebbe anche stare Perché comunque è da sempre che gioco così Anzi addirittura va meglio di quella che avevo prima E quindi ok però in linea assoluta No, non la consiglio per giocare online Perché non va bene Ci sono dei ritardi E questo poi va ad influenzare appunto il gameplay generale Quindi sotto questo punto di vista Sono d'accordo con il vostro parere Ho effettuato qualche test Ed effettivamente solo di sera Riesci ad esprimere un attimino il meglio E quando dico questo meglio È un 60 di ping Che comunque secondo me è abbastanza buono Sotto questo punto di vista Poi fateci sapere qui sotto i commenti Voi cosa ne pensate Per quanto riguarda invece l'applicazione Altro tema abbastanza affrontato online Vi dico che anche io ho avuto una brutta esperienza Nel senso Devi mettere il numero di telefono Per accedere tramite MyTeam Eccetera eccetera Bene, ci sono problemi O comunque nel mio caso ho avuto dei problemi Non mi leggeva a volte il numero Diciamo che configurare la linea è semplicissimo Perché voi inserite la sim Attivate la corrente E il gioco è fatto Siete pronti per andare online Ma poi gestire questa promozione Dall'app MyTeam Bene ma non benissimo Secondo me si dovrebbe lavorare Un bel po' al riguardo E questo è un problema Che non ho diciamo avuto solo io Anzi online ci sono diverse Diciamo Critiche al riguardo E passate un attimino il tutto Per quanto riguarda il resto Secondo me è assolutamente da approvare Perché il prezzo è effettivamente molto interessante Potete pagare mensilmente, trimestrale In maniera trimestrale oppure annuale Quindi scegliete un attimino voi il tutto Scegliete voi la promozione Il modem non ci sono problemi Va bene o comunque non è nulla di eccezionale Ma comunque riesce a dare quello che promette E in linea generale anche per lavorare È sicuramente un bel passo in avanti Almeno per quanto mi riguarda Perché vi ripeto Prima navigavo a 1 MB E già navigare a 20 per me è oro colato Cioè è oro È fantastico in linea generale Quindi detto questo Per oggi è tutto Vi ho parlato un attimino Di quelli che sono i test che ho effettuato Che magari non sono tantissimi Ma sono quelli che in generale Mi avete richiesto di più E quelli su cui effettivamente poi Ho presato più attenzione Perché effettivamente è così Che utilizzo la linea E mi servono questi parametri Per capire se effettivamente Ha senso o meno Prendere una connessione del genere Per quelle che sono le mie esigenze Quindi se come me Lavorate al PC Quindi che ne so Dovete caricare articoli Avete bisogno di internet Eccetera eccetera Va più che bene Se volete utilizzare Una connessione del genere Per streamare su Twitch Per esempio E giocare Assolutamente no Per giocare Ci potrebbe stare In questo caso Dipende un attimino Dalla copertura E a volte anche dagli orari Mentre se volete Diciamo Giocare a livelli professionali E beh ragazzi Purtroppo Questa non è la connessione Perfetta per voi Diciamo E un po' da quelle che sono Le vostre esigenze Ovviamente Se avete altre domande Fateceli sempre qui sotto Nei commenti Noi vi seguiamo sempre online A vostra completa disposizione Per oggi è tutto Da Giovanni Da Zorro.it E da Telefonia Granata È tutto Buona giornata